Io detesto interromperla ma sta succedendo una cosa importante in questo studio perché è venuto a trovarmi come dire il re dei giornalisti televisivi italiani e dato che sta festeggiando una cosa importante adesso quest'anno lui perché ha fatto le nozze d'argento con il suo porta a porta lo faremo entrare con una musica molto speciale guardate Allora Bruno Vespa che festeggia le sue nozze d'argento con porta a porta tu sai che io sono una tua emula ho provato a fare la settimana scorsa divano a divano perché ho fatto la conduzione da casa dal divano sto provando a trovare una variazione sul tema di porta a porta caro Bruno bentrovato benvenuto allora siamo partiti con questa cosa che sono le nozze d'argento di porta a porta